Tutto pronto per la rivoluzione viabilistica che interesserà il comparto tra via Alberoni, via Trebiola e via Benedettine. Si parte venerdì 16 dicembre. Stamattina sono già stati posizionati cartelli che decreteranno il cambio dei sensi unici e una cartina con tutte le informazioni utili. Nel dettaglio il provvedimento nato da una richiesta del quartiere Roma prevede l'inversione del senso di marcia di via Trebiola, l'inversione del senso di marcia di via Benedettine nel tratto compreso tra via Abbadia e via Trebiola, l'istituzione del senso unico di marcia in via Alberoni nel tratto compreso tra via Trebiola e via Deimille in direzione dei via Deimille, istituzione di una corsia preferenziale per autobus, taxi e biciclette in via Alberoni nel tratto compreso tra viale Abbadia e via Trebiola, senso unico anche in via Giarelli con direzione da viale Sant'Ambrogio a viale Il Piacentino, senso unico di marcia in via Valmagini in direzione via Prati e senso unico anche in via Prati direzione via Abbadia. Con queste modifiche cerchiamo di eliminare il traffico parassite dalle vie del quartiere, ossia quello di chi cerca di bypassare il nodo di piazzale Marconi attraversando il centro, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Giorgio Cisini. Si tratta di un'idea ampiamente condivisa con tutti i residenti e commercianti compresi.